E' una delle cose più importanti che si possono fare in medicina, cioè il fatto di curarsi senza farmaci, curarsi comunque con l'attività fisica, l'attività sportiva, l'attività metabolica, l'attività dell'esercizio, in un contesto nel quale sicuramente il mondo dello sport ti porta anche ad altre cose, all'aggregazione, al divertimento, al fatto di conoscere tante persone, però la cosa più importante è che capire che determinate patologie possono essere assolutamente curate attraverso l'esercizio fisico, parlo del diabete, parlo dell'ipertensione arteriosa, parlo delle malattie cardiovascolari e soprattutto anche le malattie osteoarticolari, tutte quelle che possono essere un prodromo all'artrosi, il fatto di creare a una certa età dei problemi articolari che portano all'artrosi. Ecco, l'attività fisica e in questo caso lo sport sono il farmaco preciso che può essere utilizzato senza utilizzare i farmaci, scusate il gioco di parole, però in questo momento l'idea e il pensiero di tutti noi deve essere quello di praticare sport, attività sportiva per migliorare la salute.